Per noi il dialogo e la sinergia vera con le istituzioni, in questo caso con l'Università Mediterranea, sono un punto imprescindibile della nostra azione politica e amministrativa e anche nelle ultime settimane l'accordo con la Facoltà di Agraria, con l'Università Mediterranea per aprire un'azienda lì su terreni comunali che insistono nella zona di Gallina e l'ennesima dimostrazione di quanto si possano concludere positivamente dei rapporti che poi hanno una ricaduta positiva sul territorio. Per noi l'Università Mediterranea, la presenza dell'Università degli Studi Mediterranea sul territorio di Reggio Calabria è una forza, un qualcosa che va non soltanto difeso ma va valorizzato il più possibile anche per tutto quell'indotto che deriva dalla presenza di studenti nella nostra città ma anche da quello che può essere attraverso le varie facoltà il supporto che l'Università Mediterranea dà alla pianificazione dello sviluppo della città di Reggio Calabria.